Pronti? Buonasera a tutti e benvenuti a Villa Cesarina, Lady The Voice, special guest star e direttrice artistica da gennaio che è tornata a New York in Italia e organizziamo sempre quanti eventi stellari è venuta la mia migliore amica a trovarvi e io la devo salutare e ringraziare, Leonora grazie di essere qua Grazie a te carissima amica che mi hai dato l'onore di essere qui oggi presente per questa bellissima serata e giornata per il Red Party a Villa Cesarina Io ringrazio di cuore oltre che Leonora che è la mia migliore amica ma anche le mie modelle qua, le mie miss perché sapete chiedo sempre spazio alle miss, alle over e alle overissime ma soprattutto il colore è rosso, quindi rosso Ferrari, rosso moda e red carpet che più tardi calcherete su queste scene importantissime a Villa Cesarina Vi presento brevemente amici e amiche di Radio Rollers ma anche amici e amiche della Rai perché sono delle carissime amiche che vengono da tutta Italia a trovarmi una volta al mese io organizzo questi eventi molto importanti dando molto spazio alla moda, all'arte, al cinema, alla musica, allo spettacolo Alla mia destra vi presento le altre miss di questa sera Ciao, sono Fiorella da Genova La prossima Franci da Savona La prossima Maria da Varese E l'ultima Ciao, sono Silvana da Genova Perfetto, mentre aspettiamo le altre miss che si stanno preparando perché come potete vedere adesso il mio cameraman che saluto e ringrazio Lorenzo che è il direttore di Radio Rollers si immortalerà a tutte queste bellissime ragazze che si stanno preparando più tardi le vedrete sfilare quindi ringrazio di cuore il mio staff artistico, tecnico e tutti voi ci vediamo dopo in console sai che poi farò anche la parte musicale come sempre quindi poi dovrete ballare, vi dovrete divertire soprattutto diamo spazio all'arte, alla moda al cinema e alla musica, allo spettacolo a Vida Cesarina benvenuti a tutti, grazie grazie